Ciao a tutti da Alza Lavoratore, grandissima sorpresa, mi trovo con due grandissime, le sorelle Goji, Daniela e Loretta. Ciao ciao, buongiorno, grazie, e lui è un piccolo mito, i miti sono quelli che se ne vanno, almeno per ora. No, no, voi siete veramente la gioia di tutti, mi ricordo ancora il Big Bubble che stupendo, hai fatto tantissime cose, però quella è una cosa che è rimasta nel cuore degli italiani, 8 anni. E nella bocca dei ragazzi, e nella bocca, per la fortuna dei dentisti. Ecco qua, e io, e poi maledetta primavera, oggi ci starebbe bene, anche se è sempre benedetta, fino a che arrivano, maledetta o benedetta e basta che arrivino. Esatto, se lo fai un piccolo accenno, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, non sappiamo io e te. Ecco qua, e ti regalo la mania del salvatore, e questa è la seconda, me lo ricordo, e Daniela, salchiamo tutti i fanghi, ciao!